In questa reazione vedremo come gestire l'aggiunta di nuove note nella lista. Questa viene mediante richiesta http post all'indirizzo, quindi il solito indirizzo, localhost api note, quindi inviando tutte le informazioni al body della pagina in formato JSON. Quindi per poter poi accedere a tali dati abbiamo bisogno di un JSON parser di express da implementare, quindi nel file index.js e facciamolo subito. Quindi andiamo a chiudere un po' di roba. Andiamo su index.js ed implementiamo il JSON parser. Quindi qua sotto andiamo a definire una costante, const, quindi app. Questa è semplicemente una costante di appoggio, quindi per comodità, la valorizzo con il mio express. In modo tale da poterla poi riutilizzare in maniera più semplice, quindi vado a richiamare il mio JSON parser, quindi app, che sarebbe express.use, quindi express.json. e ho implementato il mio JSON parser. Quindi andiamo a scrivere il nostro codice relativo all'aggiunta di nuove note. Lo faremo subito dopo nella richiesta di tutte le risorse. Qui inserisco il commento, quindi aggiunta nuove note. E quindi app, dicevo il metodo del post. Quindi API note. Come al solito gli passo, quindi una request ed una response. Quindi definisco la costante nota, che dicevo è uguale a una richiesta body, quindi request, body, del corpo della pagina. Quindi faccio un console.log di nota e la risposta è il formato JSON di nota. Quindi la funzione del gestore, quindi eventi, può accedere ai dati del proprietà body dell'oggetto request. Quindi senza il JSON parser la proprietà body non sarebbe definita. Il JSON parser funziona in modo da prendere i dati JSON di una richiesta, trasformarli in un oggetto JavaScript, e quindi collegarli alla proprietà body dell'oggetto request, prima che venga chiamato il gestore della rotta. Quindi per il momento l'applicazione non fa nulla con i dati ricevuti, oltre a stamparli sulla console, rimandarli indietro nella response. È solo un test. Buona norma, prima di implementarli, quindi di andare a testare il metodo. Quindi lo faremo con Postman. Testeremo che i dati siano effettivamente ricevuti dal server. Quindi oltre a definire l'url e il tipo di richiesta in Postman, dobbiamo anche definire i dati inviati nel corpo. Quindi aprite Postman. Andiamo a inserire un nuovo tab. Quindi CTRL-C. Qui. Quindi cambio subito il metodo Post. Quindi dicevo che dobbiamo definire anche i dati inviati dal corpo della pagina. Per cui qui clicchiamo su Body. Qui non sarà, quindi è RAW. Qui non sarà text, ma sarà formato JSON. E qui andiamo ad inserire, e andiamo a simulare qualcosa. Quindi per far prima copio, lo copio da qui, ad esempio. Non collo qua. Ora qui cambio il tema. Mettiamo ad esempio... L'orario lo cambio. Ok, ora io se clicco su Send. Mi da un errore. Un errore, quindi apro la console. In pratica ho dichiarato due volte la costante app. Eccola qua. Quindi questa togliamola. Non so come mai. Comunque. Ora l'applicazione è ripartita. Li tastiamo con Postman. Quindi Send. Vedete che nel Body viene restituito l'oggetto appena creato. Appena inserito, inviato. Quindi se riapro il terminale di Visual Studio, vedete che mi restituisce comunque anche qui l'oggetto appena inviato. Poi, attenzione che se in Postman non settaste questo JSON in JSON, appunto, o per errore o dimenticanza lo lasciaste in text, vedete che mi viene restituito un oggetto vuoto e anche qui un oggetto vuoto. Quindi possiamo dire che il server non è in grado di analizzare i dati correttamente senza il valore corretto nell'intestazione, che deve essere in questo caso ContentType JSON. Quindi non proverà nemmeno a indovinare il formato dei dati perché ne esiste un'enorme quantità. Quindi di potenziali tipi di contenuto, per cui andate a non commettere questo tipo di errore.